Sono le 7, stiamo andando a... Al momento la situazione è questa Quanto pare stiamo entrando nel deserto Hello my friend Ciao Ciao A 10 km da quella parte c'è il confine con l'Arabia Saudita Di là Questo è il deserto e a quanto pare noi stanotte dormiamo qui Ciao 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 E andiamo ad Aqaba La situazione ci sta un po' sfuggendo di mano, non l'abbiamo ben capito Ma credo ci stia portando verso il mare Siamo ad Aqaba Da quella parte c'è l'Egitto e da quella parte c'è il confine con Israele Siamo sul Mar Rosso naturalmente Un po' sfuggendo osserva Questa, un po' sfuggendo sécurité Un po' sfuggendo Gerash è anche definita la Pompei del Medio Oriente